Ciao a tutti, tifosi rossoneri. Prima di tuffarci nelle ultime notizie riguardanti il nostro amato Milan, vi ricordo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canolo per rimanere sempre aggiornati. Oggi abbiamo una notizia che potrebbe scuotere le fondamenta del nostro club, quindi state sintonizzati. Come riportato dalle edizioni odierne dei principali giornali sportivi, c'è una questione che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, il futuro di Tio Hernandez. Durante la conferenza stampa pre-partita di 2024 euro, tra Austria e Francia, Tio ha lasciato intendere che il suo futuro al Milan non è ancora certo. Partire da Milano? Vedremo, ha dichiarato il terzino, concentrato al momento solo sulla sua prestazione in campo con la nazionale. Questa dichiarazione ha acceso le speculazioni sui suoi possibili movimenti di mercato, soprattutto considerando l'interesse di club come la Juventus, che potrebbe sfidare il Milan in una vera e propria battaglia di mercato. E non è tutto. Mentre Zlatan Ibrahimovic ha confermato la sua permanenza a Milano, la situazione di Tio rimane incerta. I media hanno messo in evidenza le sue parole, stimolando discussioni tra i tifosi e gli esperti. La gazzetta dello sport ha titolato, Deolo no Tio. Saindo de Milao? Veremos, mentre il Corriere dello sport rilancia. Tio congele Ibrahimovic e Milan, e il tutto sport aggiunge. Juventus sulle tracce di Chiuyor, alternativa a Calafiori. Derby di mercato con il Milan. Ora, chiedo a voi, tifosi rossoneri, cosa pensate di questa situazione? Preferireste che Tio rimanesse a far parte del nostro progetto o pensate sia il momento per un cambiamento. Lasciate i vostri commenti qui sotto, la vostra opinione è molto importante per noi. E non dimenticate di mettere mi piace a questo video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere le prossime notizie sul Milan. Alla prossima, Forza Milan!